Benvenuti, la prima cosa che devo dire è innanzitutto ringraziare il Presidente e dunque il mio avversario tanti anni, tanti anni fa, adesso compagni di lavoro, e nel suo nome a tutto il Consiglio d'Amministrazione, al Direttore Generale, perché hanno avuto fiducia in me e mi hanno contattato e è andata avanti questa storia di finalmente essere qua e dirigere questa squadra. Sono veramente contento, felice, ho trovato subito un ambiente di molto affetto, devo dire, tanta gente attorno, uno staff grande di tanta gente, e subito ho trovato questo rapporto molto, non so come dire, molto familiare. Sono abituato a lavorare così, mi piace, sono uno molto spontaneo anche, ma anche molto duro su certe cose, soprattutto quelle che riguardano la squadra, a come ci si allena, a come si pensa la paravolo, cosa si deve volere della paravolo. So che questa è una responsabilità enorme e la sommo con tutta la mia professionalità e con tutto il mio impegno di far bene. Non solo il fatto di allenare la squadra, che è un compito e per questo sono venuto, se non, adesso che comincio a capire qual è il progetto di questa società, mi piace pure, perché credo che c'è qualcosa che va al di là del fatto dei risultati e come ci si pensa il fatto di mettere su una squadra o di progettare delle cose in avanti. Quindi anche questo mi piace e spero di contribuire a non solo a far rendere la squadra, a far migliorare i ragazzi, a vincere le partite, a fare una grande stagione, se non pure di essere dietro ad aiutare questo progetto della pallavola a Ravena e vada sempre in avanti. Quindi vi ringrazio ancora, vi ringrazio ancora la società. Sarà una stagione sicuramente molto impegnativa, è finita l'anno scorso così bene che c'è stato questo approccio in Europa e quindi ci sarà una stagione da lavorare e da giocare tanto. Speriamo di divertirci soprattutto e di vincere e divertirci. Grazie.